...le radici della musica italiana per arrivare da lui, da Gigi. Adesso vediamo se riesco a spiare. Guarda, c'è la sua stanza. Guarda, Gigi, qua. Dai, 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 che ce la facciamo? Oh, mamma mia. Gigi! Gigi! È sul terrazzo! Gigi! No, è andato via. Rimanete con noi. Alla prossima. Quanto lo becco? Prima o poi lo becco. Se ne è andato via. Ma cosa fa? Ma gli staranno qui. Sigla. Perfetto.